E' finito il Gran Premio d'Austria della MotoGP, nuovo episodio dunque del Racing Podcast che vi vedrete come al solito alle 19 per ovvi motivi, un Gran Premio d'Austria che per quanto riguarda la categoria regina va detto non è stato entusiasmante, se non ovviamente per il vincitore Francesco Bagnaia che comunque ancora una volta domina in una pista dove la Ducati storicamente da qualche anno a questa parte ha sempre fatto bene, basta ricordare la primissima vittoria di Andrea Iannone per esempio dal 2016 e poi da lì in poi praticamente la Ducati ha sempre vinto a maggior ragione adesso che è una moto dominante. In particolare con il pilota piemontese che allunga in testa alla classifica del mondiale in un weekend austriaco dove gli inseguitori hanno fatto lotta praticamente a fare la gara del gambo e a togliersi i punti a vicenda perché tra gara sprint e gara vera Bezzecchi e Martin hanno raccolto meno di quanto sperato. Ma ovviamente ne parleremo durante l'analisi della classifica del campionato mondiale, un campionato mondiale che appunto come dicevo appunto in apertura di questo video vede la lunga in classifica di Francesco Bagnaia che vince davanti a Brett Binder su KTM e appunto in gara vera anche all'altra Ducati quella di Marco Bezzecchi ma è un Bagnaia che praticamente ha corso avversa di crociera. La partiva già in pole position con un record della pista ovviamente frantumato ha fatto il suo passo, ha vinto per dispersione in una gara della MotoGP francamente che è stata la meno bella delle quattro viste evidentemente nelle varie categorie perché tra Moto2, Moto3 e MotoE sicuramente dal punto di vista delle emozioni è stato molto più spettacolo rispetto a una MotoGP che vede appunto il dominio delle moto europee in generale. Perché ovviamente nelle prime dieci posizioni KTM, Aprilia e soprattutto Ducati la spiegano tantissimo, oggi in Austria tutte praticamente nelle prime dieci posizioni tranne Johan Zarco che ha fatto molto male, Bagnaia invece fa veramente quello che vuole. È l'unico pilota costante di questa MotoGP, tutti gli altri magari sono più incostanti per errori altrui, errori propri o anche a volte gare in colore. Perché Bagnaia sfruttando anche una moto molto performante va detto ma comunque anche le capacità di adattarsi molto bene ad alcune piste e limitare i danni quando serve. Certo a volte non è esente di errori nemmeno lui ma comunque adesso Bagnaia è in quella fase della stagione dove di testa evidentemente riesce a soprire anche a questo tipo di mancanze che abbiamo visto poco fa. Allora ecco spiegato il motivo per cui Bagnaia in questo momento è i per primo nel campionato del mondo. Se andiamo a vedere la classifica di Wikipedia che appunto è aggiornata appunto alla gara di Austria appena finita Bagnaia ha totalizzato 251 punti di fatto al giro di Boa perché l'Austria è la decima gara delle 20 in programma. Il primo in seguitore è Orge Martina 189, Marco Bezzecchi è terzo a 183 e Brad Binder con un doppio podio è quarto assoluto a 160. È un mondiale assolutamente indirizzato che Bagnaia praticamente può solo perdere anche se mi auguro che ovviamente si vada alla vittoria del secondo titolo consecutivo per il periodo da Piemontese che appunto ha vinto non solo la gara sprint ma anche la gara vera per dispersione. E dunque suona ancora una volta il canto degli italiani per Francesco Bagnaia che in realtà non vinceva dal penultimo weekend quello di Assen in Olanda. Il podio è completato appunto da Brad Binder che in questo contesto comunque è un buonissimo pilota di base. Binder è un pilota che può fare tranquillamente 5 posizioni con questa KTM moto sempre più completa in Austria però appunto la pista di casa di KTM era evidentemente chiamata a fare bene e Binder l'ha sempre fatto. Noi ci ricordiamo di quella gara clamorosa vinta da Binder con gomme d'asciutto su pista bagnata. Terzo nella gara vera è Marco Bezzecchi che appunto ha da credere che binarsi in realtà perché nella gara sprint di fatto perde la possibilità di accorciare su Bagnaia mentre era nelle prime posizioni. Rimedia in qualche modo in gara appunto vera con una terza posizione lottata con Alex Marquez e il suo compagno di squadra Luca Marini. Ma appunto come spiegavo prima Martin Bezzecchi e Binder sono piloti molto bravi che però appunto sono sul più o meno stesso livello e quindi spesso si tolgono punti a vicenda. Tutto questo fa il gioco di Bagnaia che di fatto è l'unico pilota costante dell'otto perché tolto qualche zero qui e lì fisiologico come ci può stare per tutti Bagnaia quando non sbaglia fa podio. Difficilmente abbiamo visto una gara di Bagnaia tranne appunto la sprint dell'Argentina ma sappiamo che le gare sprint a mio modo di vedere sono abbastanza platoniche appunto fuori dal podio stesso discorso anche a Silver vs Sprint. Nelle gare vere quelle che contano punti il peggior risultato è stato di fatto un secondo posto cosa appunto che rende Bagnaia l'uomo da battere probabilmente l'unico pilota costante da questo punto di vista. Tutti gli altri livelli di marcia sono evidentemente inferiori e anche nelle gare pazze difficilmente il primo metodo inseguitore guadagna punti anzi spesso è Bagnaia che li guadagna. Uno dei delugi è sicuramente di questo weekend di Austria Orge Martin che in gara sprint si fa terzo in gara vera fa settimo ma evidentemente subisce un long lap penalty giusto in realtà per un grande contatto che è capitato nella gara sprint. Martin di fatto nella curva di Chilauda, curva 1 per intenderci entra molto interno, c'è una carambola che coinvolge Quartarro e altri piloti che vengono di fatto abbattuti. Martin deve subire un long lap penalty e di conseguenza poi rimontare e arriva settimo appunto il più beato inseguitore di Bagnaia ancora una volta perde punti. 189 per Martin e 251 per Bagnaia. Tutti gli altri piazzamenti che andiamo a vedere invece adesso per quanto riguarda il completamento della top 10 sono comunque platonici perché appunto non comportano piloti in lotta per il mondiale. Ripeto il mondiale MotoGP è quello delle categorie che andremo a parlare in questo Racing Podcast, quello più indirizzato, gli altri sono invece oltremodo spettacolari. Quarto è Luca Marini, il fratellasso di Valentino Rossi va comunque una grandissima gara, è un pilota sempre più in crescita, è cresciuta anche la squadra in generale, il team Muni VR46 ha prodotto dei piloti che vincono e fanno podi. Bezzecchi e Marini appunto sono i cavalli di battaglia in questo momento, buona gara comunque di Marini che riesce a averla meglio di Alex Marquez per una Ducati che come al solito ne piazza 3 nelle prime 5. Alex Marquez a un certo punto di vista era addirittura uno dei più improbabili, o meglio, probabili candidati per il podio, però ovviamente in questo momento il team VR46 è leggermente superiore e quindi in questa pista poi soprattutto Marquez ha fatto leggermente una gara del gambero, ma comunque è una gara positiva per il fratello di Mark che anche oggi, anche complice di una moto abbastanza orrenda, è finito after the music. Sesto è Maverick Vignalis, scusatemi per un'apriglia che in questo caso potremmo definire la delusione del giorno perché siamo passati dalla grandiosa vittoria a Silverson di Alex Spargerò a questa gara in colore con appunto Vignalis e sesto e di Spargerò, Alex ovviamente nono. Settimo è Martini di cui abbiamo già parlato, Long la pena al di inizio della gara deve ripartire dalla stessima posizione, alla fine rimonta fino alla settima, aveva il passo dei primi partendo un po' più davanti probabilmente Martini avrebbe potuto secondo me regalare una gara secondo me più interessante. Ottavo è Fabio Quartarò, l'unica moto giapponese evidentemente nelle prime posizioni, si è visto una mezza speranza per il futuro, per una Yamaha che comunque rimane una delle moto peggiori dell'otto, l'ottavo posto di Quartarò pound for pound è uno dei migliori risultati della stagione, hanno detto che appunto c'è anche il podio di Austin Texas e il podio di Austin nella sprint, ma comunque una gara incoraggiante almeno per non sfigurare nelle prossime esibizioni. Nono è Alex Spargerò che appunto completa la top 9 appunto con la seconda apriglia. In decima posizione abbiamo Enea Bastianini che appunto sta prendendo confidenza sempre più con questa Ducati. Quindi ovviamente in questo momento non è un contender per il titolo del mondo, ha fatto una gara di rimonta, deve migliorare ovviamente ma la connessione fisica è quella che è. Già arrivare decimo con delle buone sezioni per il best e rimini è sicuramente una buonissima sensazione. Come vedete tantissime moto europee nelle prime dieci posizioni, fa eccezione soltanto la Yamaha di Fabio Quartarò o tutte le altre moto giapponesi o fuori dai punti o after the music a partire appunto dall'ondicesimo posto di Franco Morbidelli al dodicesimo di Marc Marquez e così via. Ma sappiamo appunto come questa stagione le moto europee, quindi KTM, Aprilia e Ducati l'abbiano letteralmente spiegata. Ovviamente a Honda e Yamaha che comunque hanno portato degli aggiornamenti aerodinamici importanti eppure non si sono visti, sono moto che ovviamente dovranno pensare alle prossime stagioni. Come dicevo prima il mondiale MotoGP sicuramente indirizzato verso Francesco Bagna, non dico compromesso perché siamo al giro di boa, però comunque sappiamo chi sarà l'uomo da battere evidentemente in questo momento in classe regina. Sono più invece interessanti e non così chiusi i mondiali di Moto2 e Moto3 e parliamo di questa Moto2 perché torna alla vittoria. Celestino Vietti Ramos se ha suonato il canto degli italiani per Francesco Bagnaia suonerà anche per Celestino Vietti che porta per la prima volta il team Fantic a vincere una gara in Moto2. Il team Fantic è una neoentrata evidentemente della Moto2, la classe intermedia che ha sostituito evidentemente il team VR46. Il team Fantic ha confermato Celestino Vietti e messo Borja Gomez al posto di Niccolò Antonelli che è andato a fare l'europeo Moto2. Celestino Vietti Ramos è evidentemente l'uomo di punta del team Fantic e infatti è stato ripagato con gli interessi. Prima vittoria per questa stagione per quanto riguarda Celestino Vietti che non è in realtà un contender al mondiale ma comunque 80 punti in carniere per il pilota piemontese che comunque fa una gara clamorosa perché di passo gara e evidentemente ne aveva di più di Pedro Acosta che è l'uomo che adesso è in testa al campionato del mondo Moto2 sfruttando ancora una volta una gara in colore di Tony Arbolino. Pedro Acosta si accontenta di una preziosissima seconda posizione totalità 186 punti in totale ma evidentemente Acosta non ha avuto il passo per reggere questo straordinario Celestino Vietti che comunque appunto torna a vincere in Moto2 e Vietti non vinceva da Barcellona dello scorso anno Barcellona che sarà la prossima gara evidentemente del campionato del mondo MotoGP. In terza posizione invece abbiamo Ayogura, seconda prestazione nelle top 3 in questa Moto2 e evidentemente è un'altra gara importante per il riscatto di Ayogura che è partito a handicap, non è evidentemente un candidato di tutto il mondo ma comunque è un pilota che può essere una bella bega diciamo in ottica podio. Chi perde evidentemente ancora punti sulla licea del campionato è Tony Arbolino che nelle tre gare appunto che abbiano preceduto la pausa estiva e l'hanno appena ripresa quindi Assen, Silverstone e Red Bull Ring ha totalizzato pochissimi punti mentre Acosta che comunque è probabilmente il favorito tecnico per questo mondiale Moto2 ha fatto praticamente sempre podi quindi Arbolino deve sicuramente cambiare marcia e cercare di battere Acosta seppur anche con gare con Arbolino primo e Acosta secondo perché altrimenti lo spagnolo peraltro in predicato di passare a MotoGP l'anno prossimo avrà vita abbastanza facile in questo mondiale Moto2 che comunque al momento è ancora molto bello e molto interessante. È molto interessante anche il mondiale Moto3 in una gara per alto di Austria che vede la seconda vittoria in stagione di Deniz Onku dopo la gara di Germania di conseguenza suona ancora una volta la marcia dell'indipendenza l'inno turco per il fetello gemello di Can Onku che corre o meglio correrebbe in Supersport col team Puccetti ma appunto è infortunato. Gian invece Deniz fa una gara folle, la solita gara della Moto3 questa volta però al gruppo ridotto a quattro piloti, le due KTM di Olgado e Onku e le due U-square di Ayumu Sasaki e Colin Weyer. Alla fine il podio della Moto3 è caratterizzato da queste prime tre posizioni appunto Deniz Onku primo, Daniel Olgado secondo e Ayumu Sasaki terzo. Chi ride sicuramente è Daniel Olgado che appunto è vero che perde punti su Deniz Onku che sarebbe il terzo pilota di questo mondiale ma appunto li guadagna su Ayumu Sasaki e quindi il distacco al momento è in questo modo Olgado è 161 punti totali mentre Sasaki è a 135. Onku con la vittoria di oggi appunto seconda in stagione dopo la Germania appunto sale a 124. Onku è una variabile impazzita di questo mondiale verosimilmente vedremo un duello tra Sasaki e Olgado. Attenzione appunto al turco per queste posizioni che contano, se entra in rush sappiamo che Onku può fare sicuramente molto bene come oggi chi si chiama fuori sicuramente da questo mondiale è Haume Masia che appunto da quando è ripartita la campagna Moto3 dopo la pausa estiva con Silverstone e con Austria ha fatto un doppio zero pesantissimo e 109 punti sono molto pochi. È vero che anche qui siamo al giro di boa però Olgado e Sasaki sembrano avere una marcia in più rispetto al pilota spagnolo. Questa la Moto3 concludiamo con l'ultima categoria che ha corso anche in Austria ovvero la MotoE e c'è veramente ancora una volta da celebrare Mattia Casadei che dopo aver vinto una delle due gare di Silverstone vince in Austria ma addirittura fa doppietta e si canita tranquillamente come l'anti Jordi Torres in un campionato MotoE che ha ancora due eventi completi alla fine si concluderà infatti il campionato a Misan Adriatico ma appunto Casadei si lancia prepotentemente come uno degli uomini più in forma di questa categoria. Due vittorie in due gare e soltanto 15 punti di distacco su Jordi Torres che fa soltanto quinta e sesta posizione. Matteo Ferrari che era uno dei potenziali leader del mondiale vista anche la debattia di Torres e poteva esserlo dopo gara 1 purtroppo cade e fa solo 1-0 mentre si riscatta in gara 2 facendo secondo. Peraltro in MotoE c'è una politica italiana perché in terza posizione c'è Kevin Zannoni che partiva dalla pole position qui al Red Bull Ring. Zannoni peraltro vissa il podio anche in gara 1 peraltro sono i primi podi in carriera per il pilota del team 558 squadra corse. In seconda posizione in gara 1 invece c'è Eric Granado che appunto è partito a handicap e non potrà competere per la Coppa del Mondo in questa stagione mentre Casadei e Ferrari sono sicuramente i piloti più accreditati per combattere Jordi Torres. 4 eventi alla termine, 2 gare complete evidentemente da ancora assegnare punti, è un mondiale sicuramente molto interessante e vedremo chi la spunterà se ancora una volta di Torres o poi sarà la bis anche per Matteo Ferrari o la prima volta di Mattia Casadei. Questo dunque è il racing pod per quanto riguarda le categorie del Red Bull Ring. Il Moto Mondiale dunque ha ripreso con appunto un bagnaia che è sempre più l'uomo da battere. Tornerà settimana prossima e qui passiamo agli appuntamenti del canale. Anche la Formula 1 che è andata in positiva ad agosto e riprenderà le ostilità a Zandvoort Hollanda anche se Verstappen è direttamente il favorito. Poi a inizio settembre ci sarà il classico appuntamento con il baseball americano, la MLB Review per vedere chi sarà lanciato verso i playoff nell'ultimo mesi di stagione regolari. Intanto per questo racing podcast fatevi sapere cosa ne pensate dei vostri piatta preferiti, la vostra squadra del cuore e che aspettative avete anche per le prossime gare siccome siamo arrivati al giro di bola della MotoGP. Il saluto da parte di Matthew Thorgard. Ci vediamo al prossimo video.